Posameng! Posameng! Posameng è un supereroe che fa delle cose per il senso. Bartman ne scorda, ma anche Spiderman ne scorda. Però il problema è che si appare solo questo. Quante pose hai, Posameng? Sei! Non ci scappi, non ci scappi, tu puoi entrare, sei costretto a guardarla. E' una posa. E' un lito. Collegamento con la Lazio, la Roma e i Vipa, concerto romano di Sinatra. Orrico svela tutti i mali dell'Inter. Mike Buongiorno fa le pagelle della Juve. Milan, gol mai così difficile. Paolo Villaggio, Samp da delirio. Classifica l'omoviole il sondaggio. Nazionale in Bulgaria, fra vicini e Sacchi. Patrese esalta le magie di Casella. L'appello del martedì, questa sera 22.30 Italia 1 con Luisito Suarez e lei all'Arena. Ciao!